Vesti intro Cambia Cambia e ci serve una cornice sveglosa Ecco Bella così gay Cazzo ci sei sbagliato davvero No scusa ma che razza di benvenuto è Ma che Ma quello lì è un nego Eh no è Balotelli Secondo me Balotelli Secondo me è Balotelli Sai che ti ricordi che si era fatto un cifo biondo Che secondo teorie degli illuminati era maionese Ma aspetta quello lì È una fusione tra Balotelli e un pollo Beh guardalo Ti chiami Willy Sei un italiano Per le nere come Balotelli Eh vedi Ma lui è un calciatore Cosa sai Seleziona boy Nessi selezionare boy Seleziona boy Guardalo Aspetta ma Si fonde con lo sfondo da quanto è nero Quella bocca È l'espressione della I rape you Che poi c'è la bocca che Vedi no? Guarda guardalo bene Si fonde col naso Sono razzito C'è la ragazza Nooo Sei un pezzo di verde Adesso è una casa tua con una monotone Ok va bene Si Qual è il tuo nickname Oddio È un ognavo nero È un ognavo nero No aspetta aspetta Sponauze Cambiamo Flavio Gucci Eh Gucci Bella Quando arriverai ti spiegherò il scopo della tua vita Premetto Dovrai essere sempre dalla parte dei buoni Ah Ciao 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 No ma cos'ha il riflesso del camion di sbagliato Prof venga subito nel laboratorio le devo dire una cosa importante Un attimo Gucci ripara l'orologio sopra E beh ovviamente No Coraggio sai che tu non puoi venire con me Sai che tu non puoi Ok fascinatrice La crusca Ma aspetta manca qualcosa Perché non c'è la scrivania Flavio sai che ore sono No Gesù Cristo Blazit Blazit Oh Dio Cocco Cos'è La qualità Cos'è Scusa mi hanno ricordato uno studio nell'erba Eeeh Il mio aiutante è pure Qui in Malna Cicova Gli eventi che ci sono stati finora comunque Sono praticamente Che figura di merda che ho fatto Che figura di merda che ho fatto Esista questa parola Maleducarti No maleducare Deficiente Bene non esiste Complimenti Neologismo Bravo Dai da qui io sarò fuori a litigarmi No questo non credo che esista No litigarmi sicuramente non esiste Ma che cazzo Ma che cazzo No no Fermo un attimo Fermo un attimo Ma aspetta Ho stoppato Cos'è quella roba Aspetta Analizziamolo bene insieme Te l'ho detto Quello lì è in balotelli No E' una di quelle caramelle Dove c'è la parte di fragola La parte di vaniglia E poi la parte di fragola No quello lì è uno yogurt No E' presente il yogurt della Müller No è presente Quella A Mario piace Ecco Però lui Cominciate dai balotelli E ha dalla maionese Sopra la testa Ah si Gucci Me li voglio prenderti tre Prof No solo uno Cazzo Eh già Vediamo un po' No cosa che Aspetta Aspetta Prima di prendere quello Vediamo gli altri Ah io prenderei i balotelli Vai balotelli Bella lì Oddio Cosa Ha qualcosa di sbagliato Da nero E divento nero albino Guarda la scena Sembra molto Stile anime Tipo quando Due personaggi si parlano Le spalle dell'altro Oppure sta semplicemente Per cominciare Il duello tra cowboy Questo è il negozio In cui lavoro Oh cosa avevi capito Beh una partitina Alla ps4 Non me l'avrebbe tolto Nessuno Pensavo Aspetta Non entrare Di a tuo paglie Che sono incinte Che avrei un fratellino Lo Lo farò Cosa Cos'è quel coso Ben ridere E io conosco tu nonno È un fanatico del sesso Lo stimo Ma secondo me Chi ha fatto questa Che ho un ammino di 12 anni Che manco sa Qua servirebbe un qualcosa di lungo Leggi te Perché dove leggi Leggi te Oh fratello Capi del fagiolo Dimmi Andrò su qualcosa di lungo Che duro Che duro Che duro Si dove leggi Ah Cosa avevate capito Stronza Ah Aspetta 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 Un momento Questo qui è nero E c'è la sorella bianca Allora O è stato adottato O qualcuno O qualcuno Ha avuto i brutti Avuti proprio Ha avuto i brutti Incontri Con cose brutte Allora Fattete Ok Gli ha messo l'effetto Di calutonassi Ah che bello Skip breaking Poco Posso andare a dormire No Dai No È quasi mezzanotte Non puoi perché è presto Ok Tu sei un ragazzo Da discoteca Dovresti essere abituato A queste cose Si proprio Comunque Voglio un giudizio Sul gioco Fai Grandissimi Giocatori Giocanti E quindi E quindi Si